Naturalmente, torno a ripetere, è il mio punto di vista, è il mio punto di vista del punto di vista di una persona religiosa, pertanto io tutto quello che avviene lo valuto sempre in forma religiosa. Prima di passare a divinazione, tanto per rompere questo discorso, vi leggo una lettera che mi ha dato Lisa in gruppo, è una cosa che già girava sui ENG, l'avevo già vista. In pratica c'è una tale dottoressa Schellinger che si definisce educatrice secondo le leggi del Signore. E questa dottoressa Schellinger, se non vado errato ma a memoria, fa l'educatrice per una tv americana, cioè una tv americana dice com'è bello rispettare i principi biblici e la Bibbia c'è la parola del Signore. A questa dottoressa Schellinger scrive un suo ascoltatore, Arnaldo R., a proposito dei principi della Bibbia. E dice 2. Quando do fuoco ad un toro sull'altare sacrificale, so dalle Sacre Scritture che ciò produce un piacevole pubblico. Profumo per il Signore. Levitico 1.9 Il problema è con i miei vicini. I blasfemi sostengono che l'odore non è piacevole per loro. Devo dunque percuoterli? 3. So che posso avere contatti con una donna solo quando non ha le mestruazioni. Levitico 15.19.24 Il problema è, come faccio a chiederle questa cosa? Molte donne si offendono. 4. Levitico 25.44 afferma che potrei possedere degli schiavi sia maschi che femmine a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. 5. Un mio amico afferma che questo si può fare con i filippini, ma non con i canadesi. Può farmi capire meglio perché non posso possedere schiavi canadesi? 5. Un mio vicino insiste per lavorare di sabato. Esodo 35.2 Dice chiaramente che dovrebbe essere messo a morte. Sono moralmente obbligato ad ucciderlo personalmente? 6. Un mio amico ha la sensazione che anche se mangiare crostacei è un abominio. 7. Levitico 11.10 Lo è comunque meno dell'omosessualità. Non sono d'accordo. Può illuminarci sulla questione? 7. Levitico 21.20 afferma che non posso avvicinarmi all'altare di Dio se ho difetti alla vista. La mia vista deve per forza essere dieci decimi o c'è qualche scappatoia alla questione? 8. Molti dei miei amici maschi usano radassi capelli, compresi quelli vicino alle tempie, anche se questo è espressamente vietato dalla Bibbia. Levitico 19.27 In che modo devono essere messi a morte? 9. In Levitico 11.6.8 viene detto che toccare la pelle di maiale morto rende impuri. 10. Per giocare a pallone, devo quindi indossare i guanti? 10. Mio zio possiede una fattoria. È andato contro Levitico 19.19 poiché ha piantato due diversi tipi di ortaggi nello stesso campo. Anche sua moglie ha violato lo stesso passo perché usa indossare vestiti di tessuti diversi, cotone e acrilico. Non solo. Mio zio bestemmia tutt'andare. È proprio necessario che mi prenda la briga di radunare tutti gli abitanti della città per lapidarli come prescrivono le scritture? Non potrei più semplicemente dargli fuoco mentre dormono? Come simpaticamente consiglia il Levitico 20.14 per le persone che giacciono con consanguinei? So che lei ha studiato approfonditamente questi argomenti, per cui sono sicuro che potrà rispondere a queste semplici domande. Nell'occasione la ringrazio ancora per la missione che svolge nel ricordare a tutti noi che la parola di Dio è eterna e immutabile. Questo è naturalmente una lettera un po' scherzosa, diciamo così, perché però mette in luce cosa significherebbe oggi come oggi seguire quelli che sono i dettami della Bibbia. Cioè la Bibbia è un libro di morte, di assassino, di genocidio che ha lo scopo di sottomettere le persone, di distruggere la vita delle persone, sottoponendole a regole che sono regole folli, regole da dementi. Ebbene tutte queste regole per la Chiesa Cattolica e per i cristiani sono ancora tutte in vigore. E quelle regole vengono applicate quando a loro conviene che siano applicate. Ciò che impedisce a loro di applicare quelle regole è la legge civile, è la società civile. Rifletteteci un pochino su questo e poi capirete perché noi non accettiamo il punto di vista storicistico dei laici. Cioè non che lo rifiutiamo nel senso in assoluto. Però c'è meno importante rispetto a capire che quando qualcuno ti viene a dire che devi vendere la tua figlia come schiava e praticamente non è altro che uno dei vari aspetti secondo i quali devi trasformare le persone in oggetto di sottomissione. Noi come pagani ci ribelliamo, cioè noi come pagani non accettiamo assolutamente questi tipi di principi. Ma non è che non li accettiamo perché erano fatti duemila anni fa in fondo. Cioè, ok, tutte le società antiche avevano i loro principi, ma sono principi rimasti nelle società antiche. Anche a Roma si compravano e si vendevano schiavi, ma apparteneva a Roma. Questa appartenenza a Roma non era elevata a parola di Dio immutabile. Cioè è una questione che apparteneva alla società civile. E le questioni della società civile si cambiano. Cioè le leggi si modificano. Qui stiamo parlando di parola del Dio padrone che nessuno può modificare. Che è valida duemila e cinquecento anni fa, quando è stata elaborata, ed è valida oggi. Cioè è questo che non è accettabile dal punto di vista sociale. Non che non fossero principi di società antiche. Nessuno mette in discussione che lo fossero. Il problema è che elevando la parola immutabile del Dio, vengono imposte ad ogni società diversa dalle società antiche. Cioè, se nella società antica lo schiavismo era una condizione sociale, nel cristianesimo lo schiavismo era la volontà del Dio. E le persone vengono messe in ginocchio davanti al Dio perché devono obbedire alla parola del Dio. Cioè questo è che è abberrante. Non tanto che il principio una volta c'era dopo non c'era più. Ma perché i cristiani pretendono che quel principio sia ancora valido. Ed è questo che li porta a essere dei terroristi, li porta a essere dei criminali. Cioè è la manifestazione della verità a cui costringono le persone alla sottomissione. Poi il principio di vendere la propria figlia è irrilevante che sia una vendita vera e propria. Perché esistono tutta una serie di comportamenti di distruzione dell'individuo che non necessariamente si va a vendere. Perché si distrugge psicologicamente un individuo, si distrugge moralmente e lo si distrugge quando lo si costringe a pregare. Cioè quando ci si ritiene in diritto di costringere i propri figli a pregare. È un abominio che va sempre all'interno del principio di vendere la propria figlia. Cioè la propria figlia come bestiame. E sono tutte cose che sono inaccettabili dal punto di vista della società civile in quanto hanno la funzione di trasformare l'individuo in un oggetto di possesso. E non è accettabile questo. Cioè questo è l'abominio vero e proprio del cristianesimo. Non che nelle società antiche non ci fossero delle cose che non andavano bene. Molte cose che non andavano bene e che dovevano essere cambiate. Nessuno ha mai detto questo. Il problema è che i cristiani hanno elevato ciò che non andava bene a volontà e manifestazione del loro Dio e le hanno imposte quella violenza assassina perché hanno macellato milioni di persone agli esseri umani e alla società civile. E tutt'oggi questo continua. Tutto oggi questo continua e lo possiamo vedere vediamo un attimino subito a suogliare anche subito un pochetto di rassegna stampa come la guerra che quel criminale di ruini e la banda di assassini la Chiesa Cattolica sta facendo contro l'aborto. Cioè il diritto d'aborto che è un diritto conquistato col sangue contro l'organizzazione terroristica e criminale della Chiesa Cattolica che stupra bambini costringendoli in ginocchio in maniera infame, vigliacca viene messo in discussione come se fosse la caramella o il gelato che è una cosa veramente abberrante e nessuno dice a sta gente di andare a cagare e quando questa gente viene redarguita da qualcun altro non dicono noi organizziamo la mafia all'interno della società civile affinché le donne siano in difficoltà e non possono abortire ma dicono ma noi abbiamo il diritto di manifestare il nostro pensiero sì ma oltre a questo c'è l'organizzazione mafiosa del territorio c'è la distruzione del sistema sanitario questo che è vile e assassino non è una semplice manifestazione del pensiero ma sono attività di eversione sul territorio che comprano, che pagano rispetto a delle persone deboli che non si possono difendere perché ricordatevi che chi ha necessità di abortire in questo momento non sono le persone che sanno benissimo come si usa un preservativo come si usa la prevenzione quali sono i momenti, come farlo, dove farlo, quando farlo ma sono le persone deboli cioè sono quelle persone a cui viene negato l'insegnamento a cui vengono negate le informazioni o per morale o perché i genitori non si prendono la briga o perché sono sottoposti all'orrore cattolico a queste persone viene negata la condizione sono queste persone che hanno più bisogno dell'aborto eventualmente un altro discorso poi ricordiamo l'attività della chiesa assassina cioè si è ribellato perfino Veronesi per il discorso dell'eutanasia l'eutanasia che è un diritto è un diritto inalienabile dell'uomo perché l'uomo appartiene a se stesso non è un oggetto posseduto da altri e qui c'è la battaglia fra un discorso laico dove i laici vendono il culo come puttani in realtà scappano via perché loro non hanno interessi dal punto di vista religioso dal punto di vista dell'uomo davanti alla vita ma hanno interessi di negazione di questo e vediamo come su questi discorsi da Bertinotti a Fini da Berlusconi a Prodi ai DS a tutti gli altri scappano via davanti a queste cose perché non gliene frega niente non gliene frega niente che i preti stupidino bambini non gliene frega niente che i preti mettono in discussione legge sull'aborto non gliene frega niente che i preti offendono le persone per impedire l'eutanasia cioè e davanti a queste vediamo ah non solo ma addirittura questa gente partecipa alle manifestazioni insieme ai frati cioè è una roba veramente folle poi abbiamo le unioni tipo il Papa coniugare fede e scienza Papa Benedetto XVI Ratzinger e la stessa cosa la lezione del Dalai Lama insieme scienza e religione se vediamo come hanno tutta l'intenzione di mettere le mani anche sulla stessa ricerca scientifica sulla stessa vita civile degli uomini perché non si tratta della ricerca scientifica del tipo clonazione o di altre cose si tratta della vita quotidiana dell'uomo cioè della morale che viene applicata giorno per giorno questo e cosa porta tutto questo? beh lo sappiamo benissimo dove porta tutto questo alla fine fine volete un piccolo un piccolo assaggio di articoli che ho scaricato da internet poco prima di venervia